Oh, dove è? Michael Ciamato? Siete troppi, dove? Non riusciamo a stare, vado qui, eccolo qua, Mr. Michael Fonson, ma non è solo, Ciamato, benvenito, benvenito, non è solo, perché dovete sapere, ve li presento fra un attimo, dovete sapere che la favola di Michael comincia a lavare in Cuba, in una stradina piccina, e dove è difficile avere anche da mangiare, un sogno si avvera e arriva la cinematografia. Due giovani, lui viene da Cuba, lui è siciliano catanese, hanno anche loro, la loro opportunità, la loro strada, vorremmo sentire un tributo importante per il cubano. Pedrito, applauso, grazie! Eccolo qui! E poi, lui è siciliano, e il fatto che sia catanese non deve essere un motivo di attacco, ma di orgoglio, lo vedrete ballare, un rullo compressore, un giovane, da un ghetto, da una parte piccola di Catania, fa il giro, parte da qui, poi gli MJ, poi Michael Fox. Signore, signori, l'applauso per lo straordinario Andrea Campagna, voglio un applauso forte, fatelo forte, incoraggiatevi! E ora, sei minuti di adrenalina pura, silenzio! Chiamango, sta listo, la fuente facoltà, e Matteo, tre, due, uno, a le musica! Chiamango, sta listo, la fuente facoltà, e Matteo, facoltà, e Matteo, facoltà, e Matteo, ti eserano! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.